Parte dalla questione sicurezza la campagna elettorale di Italia Viva a Lucca in vista delle elezioni regionali. Al Bar Tessieri di Via Santa Croce hanno incontrato la stampa i coordinatori provinciali del partito di Renzi, Alberto Vaccini ed Anna Rossi, ed il capogruppo regionale Stefano Scaramelli. L'ex sindaco di Porcari ha spiegato che la sicurezza dei cittadini è uno dei punti fondamentali della proposta di Italia Viva. Sicurezza da intendersi non solo come questione di ordine pubblico, ma in un'accezione più ampia. Sicurezza vuol dire riqualificare i territori, vuol dire attenzione per esempio all'esercizio di vicinato, vuol dire tenere il verde in ordine, vuol dire illuminare i quartieri di notte, vuol dire soprattutto ricreare i presidi sociali e anche economici e anche commerciali sui territori, perché vedere periferie o paesi con le vetrine spente o con scritta affittasi è solo questo, secondo me è un grosso errore, è un elemento di grande sofferenza e dobbiamo metterci mano anche con la politica. Il capogruppo regionale Scaramelli ha ribadito che Italia Viva appoggerà la candidatura a governatore della Toscana di Eugenio Giani e che il partito presenterà liste di otto nominativi, quattro donne e quattro uomini, in tutte le province. Capolista Lucca potrebbe essere proprio l'ex premier Matteo Renzi. Tra i candidati a consigliere ci sarà anche Baccini? No, quello che farò io per ora non lo so assolutamente, quindi penso che le decisioni verranno prese ai primi d'aprile e vedremo al momento.